Un grande utilizzo della funzione collaborativa è quella di avere più utenti che lavorano sullo stesso documento nello stesso momento, evidenziando per esempio i nomi in un verso di una poesia, lavorando su una mappa o evidenziando elementi di un testo in prosa. Sullo schermo vediamo un famoso poema giapponese e come presentatore voglio che i tre dispositivi connessi lavorino insieme e che evidenzino insieme i punti importanti delle rime. Quindi poniamo questa domanda alla classe, assicurandoci che siano in collaborazione con il display, vedremo nel primo dispositivo che evidenzierà una parte del testo, il secondo dispositivo evidenzierà con un colore diverso un'altra parte del testo e poi il terzo dispositivo con un altro colore evidenzierà un'altra parte del testo ancora. Quindi abbiamo visto come le annotazioni di pensieri vengono condivisi tra di noi, con il presentatore e con chiunque altro stia visualizzando la nostra sessione.